Continuano gli interventi delle forze dell'ordine per reprimere violenze perpetrate sul web. È stato sequestrato materiale pedopornografico in tutta Italia. Lei era stata costretta per mesi ad inviare foto e video intemi. Materiale che il cosiddetto fidanzatino virtuale minacciava di far girare in rete se lei non avesse mandato altro. Vittima di questo incubo una minore residente in Piemonte che aveva conosciuto sui social il suo ricattatore apparentemente suo cotaneo e poi stata salvata dal padre che ha scoperto il ricatto e ha raccontato tutto alla polizia. Il fidanzatino è stato denunciato per produzione e cessione di materiale pedopornografico. Nel corso delle perquisizioni eseguite in tutta Italia sono state sequestrate circa 300 immagini di questi contenuti. Dopo aver conquistato la fiducia della ragazzina, il fidanzatino che la giovane non ha mai conosciuto personalmente, manipolandola psicologicamente è riuscito a farsi spedire filmati e particolari girati con il cellulare dalla stessa vittima. Immagini che si è detto pronto a rendere pubbliche se la giovane non avesse continuato a mandargli altro materiale. Il lavoro degli agenti coordinati dalla Procura dei Minori del Tribunale di Torino è stato complesso, visto le fitte maglie della rete informatica costellate di barriere giuridiche, così ha spiegato la Questura di Torino. Ma dopo mesi di lavoro, gli investigatori sono riusciti a dare un nome e un volto al fidanzatino che è stato naturalmente denunciato. Grazie.